E' stata inaugurata la scorsa domenica 22 settembre Piazza Mediterraneo, ex Piazza Mercato, interessata nei mesi scorsi da una serie di interventi, messa in opera della pavimentazione dell'aria che ospitava il mercato del giovedì e parte degli slarghi nei pressi del Palazzetto dello Sport di Concilio e il Cineteatro di Filippo, realizzazione di un parcheggio, 190 posti, rifacimento della pubblica illuminazione, realizzazione dei sottoservizi, rifacimento marciapiedi e asfalto messa in opera delle panchine. L'area dove era stato ubicato il Cineteatro, dove c'è il Palazzetto di Concilio, doveva completare il suo percorso di ammodernamento. Con questo intervento di rivolificazione di Piazza Mediterraneo andiamo a sistemare tutto l'aria intorno rendendole fruibili. C'è una piazza parcheggio, possiamo definire così, molto ampia che potrà essere utilizzata sia per la normale attività di parcheggio dell'automobile ma anche per degli eventi perché la pavimentazione che abbiamo messo a disposizione della città consente anche di organizzare degli eventi particolari atteso che non è un semplice parcheggio ma c'è una pavimentazione che la rende anche molto carina ed accogliente. Poi con la vicinanza del Cineteatro consentirà in futuro anche eventi che noi immaginiamo di organizzare nel breve. Sono felice perché comunque quest'area in generale effettivamente in qualche posto in particolare era stata un pochettino abbandonata, in questo modo noi ridiamo ancora vitalità di più al centro cittadino e rendiamo fruibile anche per una passeggiata o degli eventi come ho detto prima questa zona e questo ci rende naturalmente molto felici ed orgogliosi. Dopo la benedizione e il taglio del nastro è seguito un momento di commemorazione per Luigi Renzi, l'operaio scomparso per una tragica fatalità. In quel luogo il 27 giugno 2012 è stata scoperta una targa che permarrà il luogo in sua memoria. Dato che si è svolto in questo posto purtroppo questa tragica fatalità era giusto assolutamente ricordarlo con una targa perché il pensiero delle persone che non ci sono più naturalmente rimane sempre nei nostri cuori e dobbiamo assolutamente conservarla. Il ricordo di Renzi, di Luigi Renzi comunque rimane vivo nei nostri cuori e quindi dobbiamo assolutamente conservare il suo ricordo. È giusto per la città, è giusto per la sua famiglia, è giusto per tutti noi che queste attenzioni vengono comunque in ogni caso svolte. Quindi è una giornata che viene a una doppia valenza, quella di essere felici per un pezzo di città che si è andata da Borrernale e un ricordo delle persone che non ci sono più.